Il Ministro Costa Il Ministro Costa è quello che è accaduto nella nostra città, dove abbiamo da soli dovuto far fronte a un evento straordinario, seppur programmato, che è la chiusura del termovalorizzatore di Acerra, che siamo riusciti a reggere in maniera anche complicata. Molti non ci speravano e non ci credevano, quindi noi abbiamo rischiato veramente un'emergenza di fiuti. L'abbiamo risolta grazie a una brillante cooperazione istituzionale del territorio metropolitano e campano, oltre che della città ovviamente di Napoli. Ma il superamento di quella chiusura ha prodotto uno stress fuori dalla norma di tutta l'impiantistica metropolitana e campana, alla quale si sono aggiunti anche eventi probabilmente di natura criminale, come numerosi incendi e anche altri fatti che non è il caso adesso ricordare o ripercorrere. E soprattutto il fatto che in Italia, di questo abbiamo parlato anche molto a lungo col Ministro, c'è una crisi legata all'umido e al conferimento dell'umido, in molti comuni dell'area metropolitana di Napoli si sta creando un blocco della raccolta differenziata, una commistione tra umido e multimateriale. Questo fa sì che negli impianti stirri vengono portati rifiuti in cui è contenuto anche l'umido, è come mettere benzina sporca nel motore, questo produce stress, produce maggiore quantità di rifiuto, produce rotture. Quindi per far fronte a quella chiusura sono andati sotto stress anche siti di trasferenza, ad esempio l'ICM di San Giovanni ma anche altri. Con altre congiunture sfortunate di questo periodo si è arrivato al punto che si è molto ritardato lo svuotamento. Lo svuotamento era programmato quindi non è il frutto né dell'intervento del Ministro né dei comitati, semmai i comitati va come dire il nostro sostegno per l'insopportabilità che la città ha dovuto subire per uno lezzo nauseabondo che per alcuni giorni ha caratterizzato quell'area ma è stato un evento straordinario che non si verificherà più. Questo è quello che ho voluto sottolineare al Ministro che si è impegnato anche però a cambiare passo per il governo sul piano delle bonifiche e di altro perché finora abbiamo visto buone parole ma nessun fatto in generale, non è un addebito a costo. Parlo in generale dei governi degli ultimi tempi e quindi si ritorna a una fase in cui noi dobbiamo utilizzare tutti i siti di cui abbiamo a disposizione per fare multimateriali, isole ecologiche, siti di trasferenza, mai più siti in cui si deposita per un numero di giorni considerevole una quantità di rifiuti che poi provoca quel tipo di problema. L'intasamento dell'ICM è adesso lo svuotamento che sta addirittura avvenendo in maniera più rapida rispetto alla programmazione perché dovranno essere 15-20 giorni, invece avverrà entro il 31 ottobre, però sta producendo un ulteriore stress alla città perché abbiamo numerosi automezzi impegnati in questo e quindi per qualche giorno abbiamo avuto sofferenze gravi. Credo le continueremo ad avere per qualche ora, le aziende varie, Sia, Sappana e tutti gli altri, Regione Campania, ognuno per la parte di sua competenza, mi hanno assicurato che per le prossime 48-76 ore noi dovremmo avere un ritorno complessivo alla normalità, sia per quanto riguarda il CEM sia per quanto riguarda la città. Poi a tutti ho detto che però io non sono comunque soddisfatto perché c'è da mettere in campo un'azione più efficace per la pulizia complessiva della città di Napoli, mi riferisco allo spazzamento, al riassetto, è un'attività di maggiore organizzazione dell'azienda su cui siamo concentrati. Poi siccome il momento è difficile, il momento è delicato e noi stiamo facendo un lavoro straordinario anche con grande coraggio, competenze e professionalità, va richiesto ai cittadini di fare qualcosa in più, essere più attenti, essere più attenti al differenziare, contribuire anche a una pulizia, per esempio mi riferisco alle attività produttive e commerciali, ai luoghi antistanti di loro locali. E poi mi auguro che siano sempre meno gli incivili che contribuiscono ogni giorno e di questi ironicamente li ringraziamo a gettare rifiuti, ingombranti e quant'altro in tutti i luoghi della nostra città. Il momento è complesso e come tutti i momenti complessi si risolvono con l'unione, con le idee, con l'azione, con la forza, con la trasparenza e col coraggio. Al ministro ho detto, caro ministro, qua finora tutto quello che è stato fatto, dal superamento dell'emergenza e rifiuti, il 40% della differenziata, oltre a più di un cittadino su due interessato al porta a porta, la qualità ottima della differenziata che facciamo, però tutto questo sinora, caro governo, l'abbiamo fatto solo con le nostre forze. Voi continuate a non farci assumere l'età media dei nostri dipendenti, supera i 60 anni, forse alla fine più che fare autocritica dovremmo anche dire che col friggere il pesce con l'acqua in questo modo siamo arrivati quasi al punto di un miracolo laico. Noi abbiamo superato la chiusura del termovalorizzatore di Acerra con un miracolo laico, adesso però abbiamo bisogno di tornare all'ordinaria età. Noi lo faremo con gli impegni che abbiamo messo in campo, però mi auguro che da oggi in poi ci sia un cambio di passo, soprattutto da parte del governo nazionale, che sa, perché ne abbiamo parlato oggi, dove mettere mano per dare ossigeno al nostro paese sul tema dei rifiuti.